È il Museo Civico di Bari ad ospitare la prima personale di Filippo Riniolo, artista visivo meneghino, intitolata Fiere. Nella mostra a cura di Claudia Attimonelli sono esposte le icone di donne filosofi del XX secolo e gli acquarelli della serie Eleison. Le icone di Riniolo sacralizzano alcune donne che nel corso del Novecento hanno dato vita a pensieri profondi, capaci di mutare le dinamiche della società in senso politico, antropologico, culturale e sociale, ma che molto spesso non sono state considerate per il ruolo che hanno rivestito. L'inaugurazione della personale è aperta al pubblico fino al 7 gennaio, martedì 5 dicembre, è la presenza dell'assessora alla cultura Ines Pirucci e della consigliera comunale Micaela Paparella. Sì, anche quest'anno il Museo Civico dedica apri sui spazi alle donne. Con la mostra a fiere sono esposte dieci filosofi che hanno contribuito a far crescere il pensiero del Novecento e dieci donne migranti del nostro drammatico presente. Donne spesso ignorate dai libri di storia e di filosofia, ricordate spesso solo per i loro compagni e per i loro mariti. Donne invisibili, divenute invisibili, in fuga dalle guerre, dalla povertà. Qui diventano vere e proprie icone. L'aureola che sormonta il volto indefinito delle intellettuali è stato pensato dall'artista perché in esso possa riconoscersi qualsiasi donna contemporanea. Abbiamo voluto nuovamente aprire il museo alle donne e all'arte contemporanea. Quindi un museo civico di Bari che nuovamente si riapre nel panorama nazionale, culturale.